Bene, allora chiedi, mi ero un papadino, mi ero un meggio, meggio un papadino, mi ero un macadino, mi ero un ponte di boccia. Ang sinasabi ko dito, ha, gusto kong ipapad sa inyo, na, ang akala nyo, mga tinutututut kong mga heavy rock, mga metal, mga crunch, mga maingay, ha. Ang Pilipino, hindi, hindi Pilipino, ang Pilipina, mahilig sa love song, mga, eh, pero, ayaw ko ng love song, hindi totoo. Hinawa hindi pa toto angin na relaxo. Hinawa hindi wani, perhitung jauh sese nio, hinawa hindi moh nama na. Hinawa hindi, hinawa hindi wani. Hinawa hindi, seboll, si mga Pilipin, piilipino moh napa. ma l'anno perché si appena è iniziato appena non ti vuoi ne so qui di persone però l'anno voglio dire e voglio dire Il suo attore, attore, che non ha un altro, ma che non ha mai mai ritmo. Ma che non ha mai avuto l'anno, ma che non ha mai avuto l'anno. Quindi, se vuoi, mi ricorda di questo, l'anno l'anno così. In 1976, quando si è arrivato, si è arrivato alla cucina. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.